La fucilazione del povero pastorello lucano, la ferocia dei piemontesi sabaudi al sud. Ricordo il primo verbale di processo che mi capitò fra le mani. L'ufficiale piemontese chiedeva a un pastorello lucano di 17 anni come mai avesse quelle scarpe. Il ragazzo non capiva, quello parlava un'altra lingua. L'ufficiale gli comunicò che lo condannava per brigantaggio perché erano scarpe in dotazione all'esercito italiano. E il poveraccio ancora non capiva di dover spiegare che ne era entrato in possesso senza ammazzare nessuno. Immaginai il suo sperdimento, la paura, la rabbia di non rendersi nemmeno conto di cosa volesse da lui quella gente e perché lo trattassero male. Poi comprese, gli fece lo cenno di girarsi dinanzi al plotone d'esecuzione schierato. Udì che caricavano le armi, fucilato alle spalle, mi misi a piangere. Dal libro Terroni di Pino Aprile Terroni di Pino Aprile